E ancora una volta c'è ragazzi e ben ritornati sul mio fantascudo Raga, oggi visto che è il compleanno di mio padre Ho in mente di costruire qualcosa sul mini world per mio padre E quindi Si parte Vediamo Dove iniziamo raga Non saprei Raga, metto un po' di musica a questo Il fucile Perché il fucile? E infatti Aspetta Eccoci E infatti 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 No, aspettate, giro il telefono Con questo No, non ho capito che sapere questo Vedo io Raga, non ci ho capito niente Però questo non va bene Vediamo Vediamo questo Red Soil Sembra la terra di Marte Ehm, per voi va bene Vabbè, prendiamo questo Vediamo Sì Così Iniziamo con un bel cuore gigantesco Solo che più o meno Non lo so fare Non lo so fare molto bene Vediamo così Se riesco No, raga Scusate Un video di Stop Però non è venuto Beh, facciamo Piccolo Piccolo ma bello Vediamo Raga Continuiamo Un video di a 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 poligono di di questo materiale così e poi con questo si spara ora basta portarci le persone a 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 si ora vi spiego bisogna coprire il tutto così e ecco ci vediamo troppo raga eccolo a 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